Ciao a tutti, bentornati su Fage Network, io sono Valerio Novara e oggi vi volevo parlare di una serie che è stata trasmessa tra febbraio e marzo 2021 da Sky, Showtime, che è un canale che sta su Sky Atlantic e si intitola Your Honor, con protagonista Brian Cranston di Breaking Bad. Ebbene, sono dieci episodi ed è una delle serie che mi ha più colpito in questo periodo, perché ritroviamo un grande attore alle prese con una serie che farà molto discutere, soprattutto per i temi molto attuali che vengono trattati. Your Honor l'ho trovata molto attuale e parte subito col botto, perché già dalla prima puntata, senza fare spoiler, praticamente inizia con un incidente stradale che vede coinvolto il figlio di un giudice, interpretato da Brian Cranston. Il figlio di Brian Cranston praticamente sta in auto e a un certo punto colpisce un altro ragazzo, che è con la moto, che è il figlio di un boss mafioso. Quest'ultimo muore, muore sul colpo, una prima scena girata benissimo, tra l'altro lo scrittore della serie, l'autore della serie è lo stesso di The Night Of, un'altra serie che ha fatto molto discutere e che è piaciuta moltissimo, leggendo un po' le recensioni su internet, che è un legal drama. E inizia tutto da questo incidente nel quale muore questo figlio di questo boss della malavita di New Orleans. Brian Cranston, di mestiere fa il giudice, si trova coinvolto in questo omicidio del figlio e da lì scaturiranno una serie di eventi in cui quest'uomo farà di tutto per proteggere suo figlio, che inizialmente non sa come comportarsi di fronte alla gravità di una situazione che lo ha visto coinvolto in prima persona. Questo figlio è rimasto orfano della mamma perché è morta anni prima, quindi Brian Cranston è un giudice vedovo, molto ligio al mestiere che svolge, una persona tutta ad un pezzo e da questo avvenimento che accade nella prima puntata sarà anche lui messo nel subbuglio delle emozioni e quindi dei cambiamenti anche del carattere. E lì la bellezza anche di questa serie è che mostra pregi e difetti dell'animo umano e quindi del carattere delle persone che comunque sia di fronte ad un avvenimento del genere riescono spesso a trasformarsi e a diventare i buoni, diventare cattivi e viceversa. Da questo avvenimento nella prima puntata, puntate che durano circa un'ora e sono dieci puntate, è una miniserie, tra l'altro Brian Cranston è stato candidato come miglior attore protagonista in una miniserie ai Golden Globes, solo che poi in questa categoria ha vinto Mark Raffalo. E diciamo che l'interpretazione di Brian Cranston torna dopo Breaking Bad e ho trovato delle similitudini con il Walter White di Breaking Bad, sia perché in Breaking Bad Walter White deve nascondere qualcosa che in quel momento è il tumore e quindi le conseguenze della malattia alla sua famiglia, in particolare alla moglie e al figlio. In questa serie deve riuscire a nascondere l'incidente del figlio, anche se inizialmente poi la prima cosa che gli viene in mente è di fargli prendere le sue responsabilità al figlio e quindi di insegnargli cosa è giusto fare in una situazione del genere. Purtroppo però si rende conto che la vittima di questo incidente è il figlio di questo boss mafioso e da lì la serie e i comportamenti di quest'uomo prenderanno una piega pazzesca. Mi ha molto colpito l'interpretazione e quindi la metamorfosi di Brian Cranston è disposto a tutto, anche perché quale genitore non lo sarebbe di fronte ad un figlio che in tutti gli effetti rischia la vita dopo quello che ha fatto. Ebbene, in questa serie c'è questo rapporto tra padre e figlio e quindi la giustizia e il moralismo che vengono fuori in un modo che ognuno di noi poi si ritrova a commentare e a dire io avrei fatto così, tu che avresti fatto. Credo che una delle cose più importanti di questa serie sia averci fatto pensare al fatto che nella vita ci possiamo trovare di fronte in un attimo a delle emergenze e quindi a degli avvenimenti gravi e sta lì a noi poi prenderci la responsabilità a fare delle scelte, delle scelte che poi portano a delle conseguenze. Nella serie sono moltissimi gli scambi di persona perché c'è la volontà poi da parte della famiglia della vittima di trovare un colpevole a questo omicidio e a un certo punto purtroppo un colpevole lo si deve trovare. Ed entra in scena anche un altro fattore che è quello dell'eterna lotta tra bianchi e neri negli Stati Uniti e quindi il tema del razzismo, il tema delle gang criminali, il tema del dover trovare un capro espiatorio per pagare perché poi per tutto l'arco del film la famiglia della vittima cercherà il modo pur di trovare il colpevole sarà disposta veramente a tutto e qui ci fa capire anche la gravità e il fatto che alcune famiglie criminali siano proprio senza scrupoli disposte davanti a bambini, famiglie non hanno veramente pietà di fronte a questi avvenimenti perché poi la perdita di un figlio ti tocca profondamente soprattutto nel momento in cui sei una famiglia alle prese con il carcere e il traffico di droga e a un certo punto viene fuori di questi figli poi ognuno diverso dall'altro c'è questa questa figlia che è una delle sorelle della vittima che invece vuole intraprendere una strada completamente diversa da quella che poi gli prefissano i genitori c'è questo conflitto con la madre per il fatto di essere molto religiosa e tutto un insieme di personaggi che interverranno nel corso delle dieci puntate per farci anche calare nella vita e nella quotidianità della vita di un giudice e della vita di un boss mafioso quindi sono questi due grandi fuochi che vengono fuori all'interno della serie e che ti trasportano perché devo dire mi ha lasciato molto colpito il fatto che non è una serie dove ci sia noi nonostante se devo proprio trovargli dei difetti posso dire che alcuni momenti sono stati un po un po troppo stato allungato un po il brodo come si suol dire nel senso che magari ci sono delle storie secondarie che potevano anche non essere raccontate ai fini della storia e ci sono poi dei personaggi che intervengono e che si mettono in mezzo tra il giudice il figlio e il fatto di voler nascondere attraverso delle continue menzogne a me ha fatto impazzire il fatto che anche in questo caso brian cranston è stato un fenomeno perché alcuni momenti ti viene da chiederti adesso che si inventa per sfuggire no alla verità che piano piano cerca di venire fuori attraverso le inchieste della polizia poi alcuni errori che sono stati fatti da parte del giudice di volersi no di scolpare quindi redimere attraverso dei gesti che però lo portano solo a rischiare di più la sua vita e a mettersi in prima persona pur di proteggere il figlio da questa da questo destino che potrebbe che potrebbe vederlo protagonista in prigione e quindi rischiare la vita perché ovviamente uccidere il figlio di un boss della malavita del più potente boss della malavita della città di new orleans il rischio è che comunque non abbia vita breve l'omicida nel momento in cui la famiglia lo trova quindi diciamo è una serie fatta scritta molto bene accattivante dal punto di vista anche del titolo già dal titolo vostro onore vostro onore no l'appellativo che si usa nelle aule di tribunale nei confronti dei giudici rimanda tutto il discorso dell'integrità e del fatto di essere super partes di una figura come il giudice che poi a un certo punto invece non è più al di sopra delle parti perché vengono fuori tutti i suoi difetti ed è costretta a un certo punto a scendere a compromessi con quella parte di società che tutti definiamo no la parte brutta la parte cattiva la malavita e tutto quello che ne deriva le lotte fra le gang criminali per il territorio per per il potere quindi una serie che mi ha molto affascinato è che nel panorama odierno è una delle migliori serie tv che si possono vedere e apprezzare anche il cast ha sembrato molto bene a un certo punto tra l'altro si parla anche del coronavirus quindi queste aule di tribunale sta molto attualizzata ho apprezzato molto anche il fatto del del dire quindi del citare questo virus e quindi il distanziamento sociale il fatto di non avere più il pubblico in aula durante i processi e l'uso delle mascherine perché erano i primi tempi quindi un anno fa la serie è uscita in italia tra febbraio fine gennaio inizi di febbraio ed è stata trasmessa in dieci puntate su sky atlantic quindi vi invito ad andarla a vedere se ancora non l'avete fatto e ditemi cosa ne pensate nei commenti qui sotto se avete se vi è piaciuta e se avete trovato anche degli spunti su cui potremmo fare anche una live su twitch vi ricordo che come page network siamo live su twitch ogni martedì sera alle 21 per raccontarvi il dietro le quinte dei film candidati agli oscar in vista della premiazione che ci sarà il 25 aprile il giovedì per un intervista con un personaggio nuovo un artista un fumettista un personaggio di twitch e il venerdì per il venerdì marvel con il nostro valerio perrone alle 16 e 30 per parlare un po di falcon e winter soldier tutti i link dei nostri canali social ve li lascio in descrizione e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima recensione che trovate anche su page.it il nostro sito web